Sara Agostino del Re, amministratore unico dell'AMA dal 2014, a sostituire Rinaldo Tordera, appena nominato manager dell'Asda dell'Aquila, nell'SM. Il sindaco Massimo Cialente dunque rompe gli indugi. Agostino del Re è direttore del CNA e nella sua carriera ha ricoperto incarichi importanti. È stato componente infatti del CDA di Ebert Abruzzo, di Asso Servizio, una struttura regionale di edilizia globale, servizi e produzioni di beni alle imprese, di Artigian Fidi Abruzzo, presidente del Consiglio di Amministrazione di Prometar, membro anche del Consiglio di Consorzio Centro Commerciale e Centro Storico dell'Aquila di Fidi Imprese Abruzzo, oltre che del Consorzio Nazionale di Imprese Assuacqua Network. Inoltre ha vestito i panni anche di consigliere e poi di componente della Giunta della CIA della provincia dell'Aquila e è stato membro del CDA dell'ISFOP. È stato presidente del Comitato di Certificazione d'Op dello Zafferano Aquilano, membro del CLES, il Comitato per il Lavoro e l'Emersione del Sommerso, componente della Giunta Esecutiva IZ. Secondo il primo cittadino, Del Re ha fatto un ottimo lavoro nell'azienda aquilana della mobilità Lama, appunto. Ora ovviamente non resta che scegliere il successore di Agostino Del Re alla Guida del Lama. Nei prossimi giorni il sindaco scioglierà il nodo anche su questo punto.